Il Consiglio Comunale di Naro, convocato dal suo presidente Salvatore Morello, ha approvato il piano triennale ed annuale delle opere pubbliche ed il bilancio preventivo 2012. Il piano delle opere pubbliche prevede, tra le altre cose, la realizzazione dell'impianto sportivo polivalente da intitolare al maresciallo Vaccaro ed il completamento del centro sociale di piazza Padre Favara. Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2012, esso ammonta quasi 11 milioni di euro e le sue entrate tributarie corrispondono a poco più di 2 milioni di euro. Quest'ultime verranno alimentate con i tributi locali, le cui aliquete sono rimaste invariate, mentre quelle dell'Imu vengono applicate come per legge e quindi senza alcun aumento.